Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Axel Z ed oggi siamo tornati dopo un mesetto all'incirca su un nuovo video, siamo su Far Cry Primal che ho acquistato ieri ok facciamo nuova partita avvia, facciamo moda di provvenza, no, difficoltà normale ok, avvia perfetto sì perfetto, perfetto 2016 da 15, ok ok, 1900, 1800 1700, 1600, 500, 800 vai vai 900, 800, 700, 600, 500, 800 eeeh eeeh vediamo nel 10.000 avanti Cristo perfetto sempre l'Europa centrale questo c'è il lupo addosso, c'è la pene di lupo nostro sangue nostro sangue tempo fa molti winja viaggiano lontano piene di vita cosa mi faccia winja winja ma pericolo arrivo Udam ma guerrieri mangiacaro Isila maestri di fuoco eh, stai calmo però insomma arriva arriva Luce arriva anche Coco bello persi camminano con spirito forte cercano Oros cercano noi Ubisoft presente Montreal bene molto figo molto figo molto figo molto figo una muta è piccolo davvero bello sto gioco dovrebbe essere proprio una figa figata allora benissimo benissimo guarda quanti mammut sembra tipo una specie di The Forest forse è un po' fatto meglio vieni Takkar ok io mi chiamo Takkar 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 ok perfetto premi C per abbassarti wow ok con questo si mira e con questo credo che si mena però vediamo non so non so grossi c'è tempo te caricano oh mio dio sono inquietantissimi mamma troviamo mammut piccolo fuori da branco poi mangiamo bene dobbiamo trovare mammut piccolo duf fu fu elefante lefante le uova le uova ma le uccide ma ma per mangiare o moriamo bene ecco mamut piccolo pronto Takkar sarebbe quello guarda se quello è piccolo Corri, 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 corri Oh, vabbè, non ti annaffaco pure tu però Gentilmente Oh, come si spegne? Mamma mia Dai, control, cura, 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 cura Uccidi Mammoth, uccidi Mammoth Porca due jazza mia Oh, ma ma che cazzo Boom Vai lancia Muori Lancia 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 lancia, lancia la lancia Lancia la lancia, uccidi le uova, uccidi la lancia Lancia la lancia Al culo l'ho preso Oddio E' morto Dai, è morto, su, madonna, non ti ci metti per morire, è morto, dai Muori Oh, che cazzo Buono, 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 buono cibo Buona caccia Vivi libero Squoialo tutto ben bene Minchia, ma che cazzo Tu non scappa, tu non scappa, dietro, dietro Porca puttana Ok, bene, quella è andata Ammazzalo, ammazzalo Porca puttana Porca puttana Non è morto Eh, no Viettatevi Muovo subito, immediatamente Via, via, via Porca puttana Aia Madonna Madonna mia che botta Eh, vai, ancora Uff Morto il fratello Subito Purello Bene, ci fa la tomba Con le pietre Purello Dispiace Oh mio Dio, no Mica Serve arma Compra arma da Copobelo Recupera le risorse per fabbricare un arco Sto coso brilla L'ardesia Ok Due ardesie Eccola l'altra La ho visto Perfetto Canne Mi servono le canne Sì, ok Due Legno di ontano Eccolo Bene Premi per aprire il menu Eccolo arco Perfetto Wow Wow, fighissimo Figo Bellissimo Stupendo Vai vai Velo Eccolo Bello Bello L'arco Andiamo a caccia Andiamo a pizzicare Pubblicino Ora che faccio Voglio cibo Voglio forza per cacciare con successo avvicinati lentamente alla preda e premi ci per abbassarti in modo più per usare la tua vista del cacciatore inserire animali cd di sangue e l'inviginanza una vicinanza di tocca con animali scappola e una circola causa presenza ok bene caccia e scuoglia per trovare cibo tre capre lo cazzo le trovo eccola dove c'è passato ecco questo ok seguiamo il sangue prendiamo le canne le canne facciamo le canne esistevano le canne qui se si drogavano cioè nel senso ok il sangue parte da qua eccola qua bene una capra si ma è impossibile o difficilissimo eccola qua presa perfetto ok manca una capra perfetto dai schiatta schiatti per piacere ho perso le tracce del sangue eccola qua perfetto oh scuola scuola brutta ok ok perfetto mettiamo il riparo legno duro accendi ok perfetto allora gioco molto spettacolato sul gioco la mostro muro è di Wenjia. Seguo tracce verso Wenjia e Oros. Ora puoi fabbricare una clava. Ottimo. Bella. Noi ci devi mettere la pietra però. Bravissima. Lega, lega. Tieni premuto, vuole incendere. Ok. Bruciate, maledetti. Segui la dash di Wenjia e usa la vista del cacciarolo. Via, 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 via. Mi spavento, mi spavento bello. Cazzo. Oddio. Minchia. Dove cazzo qua sto chiamo? Non ti avvicinare eh? Te lo lancio addosso eh? Madonna ce l'ho buttato proprio addosso. Chiunque sta avvicinando gli lancio sto coso? Oddio qua sta andando a fuoco tutto. Ok. Eh... Siamo diventati piromani. Andiamo via. Andiamo via. Mi incendio pure da solo. Morite. Non ti avvicinare eh? Non ti azzardare eh? Non ti azzardare eh? Andate via eh? Via. Minchia. Corri, 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 corri. Madonna. Via. Fanculo. Un altro lupo? Ah no. Fruga. Scendere ancora caldo. Wenjia vicino. Altro... Wenjia ferma per cui non riferite. Minchia ti immagini gli squali mai da loto anche qua eh? La roba tipo... Sai che pesci c'erano? Eh! Porca puttana. No è Wenjia, Wenjia, Wenjia. Salve Wenjia. Te lo faccio una cita. Guardate se mi fa salire stupido puttana. È lui Wenjia. Ciao Wenjia. Sali, sali. Ho trovato Wenjia. Checkpoint. Bene. Oh mio dio. Ma è una femmina? Sì. Ehi, ehi. Eh no, eh no. Oh. Dietro, 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 dietro. Porca puttana la tigre. Cammina vattene via. Cammina, levati sa. Guarda. Guarda, sta pietana zoccola. Cazzo vuole? Guarda, sta vigra del merda. Fatte da un culo. Guarda, guarda, sta stronza. Eh, ruggisci a mamme da. Ok. Terre di Oros. Scoverto. Buono. Trova foglie verdi, cura ferita di tigre. Perché? Perché cura ferita di tigre? Ho perso un pezzo e forse è saltato per sbaglio. Beh. Va bene, ragazzi. Io chiudo qui il video. Facciamo una cosa alla volta. Salva ed esci. Sì. Perfetto, ragazzi. Il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Mi piace anche la pagina di Facebook. Vi metto il link nella descrizione. Iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella.